IPA non solo è un'ottima birra ma è anche un prodotto utilizzatissimo nel nostro contesto, nel contesto del car detailing. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Carlo Raimondi e come detto alle mie spalle c'è la nostra famosissima lavagnetta e ieri sera stavamo trattando la Tesla di Roby con un trattamento nanotecnologico e ci siamo resi conto che in realtà nel corso del tempo non avevo mai fatto un video che spiegasse che cos'è veramente l'IPA e come funziona e perché scegliamo proprio quel prodotto per assolvere il suo scopo. Allora spieghiamo innanzitutto che IPA, ve lo scrivo qui per semplicità, è l'acronimo di tre parole inglesi, si vede bene? Aspettate che mi avvicino ancora un pelino. Ok, IPA è l'acronimo di tre parole inglesi che sta per isopro, c'era un accento, una y credo fosse qui, propi-li-c-al-co-ol. Ok, quindi tre parole inglesi per definire un tipo di alcol. Questo alcol nel contesto del detailing viene utilizzato, ovviamente ragazzi apriamo e chiudiamo parentesi, lo utilizziamo non puro, mai puro, quindi noi facciamo riferimento ad IPA ma non lo utilizziamo mai concentrato come per esempio in questo caso, la Liquid Elements per esempio ci mette a disposizione IPA puro ma non lo utilizziamo mai così, lo diluiamo. Ma in generale quando diciamo che stiamo parlando di IPA stiamo comunque parlando di prodotti che sono a base di questo alcol che si chiama appunto alcol isopropilico. Andiamo a vedere anche gli altri nomi che riesce ad avere questo prodotto. Ho cambiato posizione così dovrebbe vedersi un pochino meglio. Allora innanzitutto dicevamo che IPA non è l'unico modo per chiamare questo alcol ma è opportuno che conosciamo anche gli altri modi di chiamarlo quindi IPA diciamo che lo possiamo considerare termine inglese possiamo chiamarlo anche isopropanolo ho scritto isopropanolo ve lo giuro oppure alcol isopropilico oppure se vogliamo andare un pochino più sul tecnico o ancora 2-propanolo si legge bene? sì penso meglio di prima allora queste due nomenclature sono le cosiddette nomenclature IUPAC quindi se voi andate a scuola vi insegnano ad utilizzare questa e sono interessantissime perché grazie a come è scritto riusciamo a capire com'è fatta proprio la formula quindi è qualcosa di molto interessante il bello della chimica è proprio questo ti fa immaginare con che cosa hai a che fare cerchiamo di capire innanzitutto che cos'è qui diciamo in una nomenclatura del genere abbiamo un prefisso in questo caso il 2 e un suffisso in questo caso OLO OLO il termine OLO sta per indicare alcol 2 lo vedremo a brevissimo questo la molecola principale è un idrocarburo ok? infatti se io vi tolgo OLO vi dico propano o propano cosa vi viene in mente? il gas gran parte del gpl che molti di voi appassionati di auto avete in auto è formato appunto da propano ma probabilmente vi viene in mente metano ce l'abbiamo a casa tutti per cuocere le nostre pietanze l'etano non vi viene tanto in mente perché si sente poco però sono tutti idrocarburi quando ad un idrocarburo ci attacco il suffissolo che in sostanza è il gruppo ossidrile che è questo qui OH diventa un alcol a cosa ci serve questa tutto questo cappello iniziale? per capire effettivamente come è fatta questa molecola è perché utilizziamo proprio lei e non altre proviamo a pensare a come sono fatti come sono fatti gli idrocarburi più famosi quindi cancelliamo questo e passiamo alla definizione allora prima parlavamo del metano il metano è l'idrocarburo più semplice ed è fatto così un atomo di carbonio e quattro atomi di idrogeno è fatto in questo modo ok? dicevamo io prendo un idrocarburo ci attacco il gruppo ossidrile e mi trasformo mi vado a trasformare il mio idrocarburo in un alcol quindi metano lo conosciamo stato gassoso in questo modo mi diventa quindi attacco piuttosto che un idrogeno un ossigeno e un idrogeno e mi diventa metanolo facciamo un altro giochetto l'etano etano con la E è fatto allo stesso modo ma con due atomi di carbonio quindi ha questa struttura quattro due atomi di carbonio e sei atomi di idrogeno che cosa faccio? voglio trasformare l'etano in etanolo ci attacco il gruppo OH terminiamo il nostro il nostro esempio con il propano propano è semplicemente una catena di tre carboni quindi facciamo di nuovo lo stesso giochetto idrogeni dappertutto quindi tre atomi di carbonio circondati da atomi di idrogeno una catena a tre questo è il propano ragazzi quindi chi ha il GPL in casa e chi ha l'impianto GPL in auto gran parte del GPL è propano ok? poi c'è un po' di butano che sarebbe la catena 4 ok? quindi generalmente il nostro GPL è composto da percentuali variabili di propano di propano e butano mescolati per trasformare il mio propano in propanolo vedete che ci stiamo avvicinando anche al nome semplicemente tolgo un un idrogeno e ci metto il gruppo H questo è il propanolo quindi facciamo un riassunto metanolo etanolo propanolo e qui abbiamo la possibilità di rispondere ad un'altra domanda che ci viene fatta tipicamente nell'ambito dell'IPA abbiamo detto che l'IPA ci serve per sgrassare un'auto e vedere se l'abbiamo lucidata bene quindi togliamo gli oli dei polish oppure togliamo comunque ogni sostanza che potrebbe dare fastidio all'adesione di un trattamento nanotecnologico quindi l'alcol scioglie il grasso lo slega qualcuno dice ma perché devo utilizzare proprio l'isopropanolo o il propanolo come in questo caso io a casa ho l'alcol quello rosa non va bene benissimo allora abbiamo preso tre alcol famosissimi perché non li dobbiamo usare questo è il metanolo chi fa modellismo questo è la componente principale delle miscele che si utilizzano nei motorini a scoppio è un prodotto che difficilmente utilizziamo nel campo cleaning uno perché pulisce tanto ma evapora rapidamente e inoltre questo qui fa diventare ciechi ok molto più dei vostri filmini porno quindi stiamo molto attenti a questa molecola non si utilizza nel campo cleaning questa qui invece l'etanolo è il nostro alcol quello che ci beviamo è presente nella birra nel vino nei super alcolici e quant'altro ma noi non lo paghiamo poco siccome su questa sostanza ci mettiamo le accise se tu volessi comprare un alcol puro lo pagheresti veramente un botto quindi noi nei supermercati a basso costo abbiamo l'alcol rosa quello denaturato e anche se non è rosa è denaturato quindi è aggiunto di sostanze che hanno lo stesso punto di evaporazione dell'alcol in modo tale che tu non puoi utilizzare l'alcol perché sennò qualcuno se lo berrebbe veramente quindi sebbene questo potrebbe cominciare ad essere un alcol interessante anche se comunque evapora molto rapidamente non lo possiamo utilizzare non possiamo utilizzare l'alcol rosa perché il denaturante ha degli effetti deleteri sulla nostra carrozzeria infatti il denaturante si fissa i metalli macchiandoli quindi è pericoloso non ha senso e poi se calcoli quanto paghi questo e quanto paghi questo alla fine non è che c'è molta differenza perfetto compromesso lo troviamo invece con il propanolo quindi un atomo di carbonio in più vi permette di pulire sgrassare bene ad un costo veramente accessibile ed avere quel punto di evaporazione giusto quindi ti dà il tempo di massaggiare senza che lui sparisca immediatamente quindi questa è la molecola che utilizziamo principalmente ultima chicca perché prima abbiamo parlato della nomenclatura perché abbiamo parlato del 2 perché lo chiamiamo isopropanolo che non è questo perché questo è il propanolo ma non è l'isopropanolo perché giustamente la nomenclatura serve per capire com'è fatta sta formula com'è fatta sta sta molecola qui è ovvio se io vi dico metanolo noi sappiamo che al posto di un idrogeno c'è un ossigeno idrogeno ok e come la vedi la vedi l'atomo di carbonio è uno solo quindi non puoi sbagliare stessa cosa qui cioè io lo posso attaccare qui lo posso attaccare qui ma io lo posso girare e ottengo lo stesso effetto la stessa molecola stessa cosa qui se il gruppo ossidrile viene collegato qui o qui non cambia niente perché io la posso girare ma se per assurdo questo gruppo ossidrile fosse fissato non più sul sul terzo carbonio ma sul secondo quindi qui c'è l'idrogeno e qui invece c'è il nostro gruppo alcolico signore e signori ecco l'alcol isopropilico infatti nella nomenclatura IUPAC c'è scritto 2 trattino propanolo oppure propan trattino 2 olo quel 2 cosa sta? per farci capire che il gruppo olo sta attaccato sul secondo interessante anche la nomenclatura iso perché iso? perché se tu la guardi divisa a metà è isometrica è speculare ok? quindi sia di qua che di là questo è uno dei casi dove la chimica è affascinante la nomenclatura è interessante perché ci permette di capire come è fatta una formula capito quindi vita, morte, miracoli di che cos'è questo IPA perché si utilizza proprio lui tra l'altro per la cronaca tra isopropanolo e propanolo ci giriamo attorno ai 10 gradi di punto di evaporazione quindi non ci sono grosse differenze probabilmente è una molecola molto utilizzata e quindi anche commercialmente più accessibile quindi si utilizza questa capito che cos'è e quando si usa andiamo a vedere a livello pratico sulla Tesla come si usa ok allora vediamo come utilizzare correttamente IPA ragioniamo sul fatto adesso qui ne stiamo utilizzando uno i Razer della Car Pro è uno dei più delicati come sempre ragazzi vi dico non vi fissate sui brand c'è un mondo da dire anche riguardo a questa cosa eventualmente se avete dubbi chiedetecelo la credenza sbagliata è che il prodotto faccia tutto quindi qualcuno pensa spruzzo il prodotto magari passo anche il panno e ho risolto il problema no cerchiamo di ragionare su quello che succede grazie a un prodotto base alcolica base IPA la presenza alcolica slega guardate le mani che cosa fanno slega lo sporco grasso slega le cere slega alcuni tipi di sigillanti ma slega non elimina slega non toglie quindi nel momento in cui abbiamo fatto quest'operazione l'alcol evapora se non lo togliamo noi o resta così e resta sulla superficie o addirittura torna indietro quindi ricordatevi questa cosa l'IPA è solo un prodotto che vi dà una mano ma siete voi a dover eliminare queste contaminazioni queste particelle che non volete perché magari vi stanno coprendo dei graffi oppure vi impediscono una corretta adesione di un nano allora adesso andiamo a vedere insieme come si va ad utilizzare un prodotto di questo tipo due panni questa è la chiave cosa che fanno in pochissimi ho notato spruzziamo il prodotto possiamo spruzzarlo sulla superficie o nel caso abbiamo vernici particolarmente delicate possiamo spruzzarlo sul panno un primo panno che cosa andiamo a fare delicatamente andiamo a far lavorare il prodotto quindi in questo momento che cosa sta succedendo l'alcol sta sciogliendo slegando tutte le particelle che reagiscono con l'alcol sicuramente gran parte finiranno qua dentro ma se le lascio lì almeno una piccola parte rimarrà lì che cosa faccio prima che l'alcol evapori completamente prendo un secondo panno e vado io ad asciugare prima che l'alcol evapori completamente in questo modo sono io grazie alle fibre assorbenti del panno che mi sono ciucciato l'alcol residuo insieme allo sporco indesiderato questo è un corretto uso di ipa e questo è il metodo migliore per garantire una corretta adesione di un eventuale protettivo che abbiamo applicato sulla nostra carrozzeria ragazzi per questo video è tutto come al solito se vi è piaciuto cliccate mi piace se volete lasciarci un commento fateci sapere cosa ne pensate arrivederci alla prossima puntata è il metodo